Ciao a tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con Rayrunner per aprire la quarta espansione di Yu-Gi-Oh! Servitore del Faraone, uno dei set più incredibili, soprattutto del vintage, perché all'interno contiene carte come Nomi Luomo dello Scambio, super raro, Dust Tornado, super raro, Jinzo, Limite dei Mille Occhi, cioè tante carte che sono rimaste iconiche e che effettivamente si giocano nei retroformat, principalmente ovviamente in gotta. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzato da Jack Store. Il mio sponsor per l'acquisto dei prodotti coreani, trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare Giovanni e iniziamo a spacchettare. Allora Giovanni, raccontaci un po' di questo set. Quando esce e cosa possiamo trovare all'interno? Ciao Cappello, grazie ancora per l'invito. La Sorritoria del Faraone esce nel 2004, all'inizio del febbraio del 2004. Ci troviamo contestualmente nella prima fase della seconda stagione di Dual Monsters, quindi quando i protagonisti entrano nelle prime fasi del torneo della città di Domino. Tant'è che la carta secret principale è Jinzo, che diventerà poi co-protagonista insieme a Joy, ovvero Yonouchi per il mercato occidentale. Un set molto importante, sempre per quanto riguarda le steppos, sempre per quanto riguarda un po' le carte in generale. Soprano del Faraone, come è stato dopo il Soprano della Magia, rispettivamente per le magie, Soprano del Faraone ospita tantissime carte trappola. 42 se non sbaglio, di cui queste 42 e 15 sono addirittura con effetto continua. Per me non è un caso, perché affianca poi l'effetto che è quello di Jinzo, ovvero quello di andare a neutralizzare completamente sia l'attivazione di carte trappola, sia i propri effetti. Curioso è che l'altra secret, che ti... non so quale delle due preferisco che tu trovi, comunque ti auguro Jinzo a questo punto, Ordine Imperiale fa l'effetto inverso, posto di Jinzo, ovvero quello di andare a neutralizzare invece le carte Magia. Ovviamente per Jinzo sarà richiesto un tributo avendo solo 6 stelle, mentre per Ordine Imperiale sarà un tributo minimo di 700 life point. Ecco, ti faccio solo questa premessa, adesso andiamo a gustarci questo spousting. È andato benissimo con gli altri tre box, vediamo, sono molto curioso di vedere se continua con questa volta di fortuna. Io spero di non beccare Ordine Imperiale perché l'ho già trovata, quindi nel pratico il Jinzo sarebbe ottimo. Andiamo a cercarci il Jinzo allora. Guarda, considerando che è la seconda espansione, spero ci sia un'evoluzione a livello di artwork, perché effettivamente penso abbiano già testato il mercato e credo abbia funzionato. Anche se comunque coido degli stocconi di sfondo, ma vabbè. Allora, io ti dirò, a livello di artwork, SDF sinceramente è quella che mi piace anche meno. C'è qualche carta carina, Jinzo soprattutto, ovviamente anche pescatore leggendario, soprattutto è un artwork stupendo, per me è censurato anche quello. Quella è un'altra storia, però SDF non mi ha colpito tanto a livello di artwork. Forse perché le trappole tolgono un po', magari ecco, alla prima vista. Comunque, vediamo se c'è qualche super short print. Ovviamente non in questo set, ma lo era nei set passati. Una è sicuramente la più bella, è quella di Idolo dei Milleocchi. Zero, zero. Io l'ho definito, l'ho definito nella guida adorabilmente inutile, perché alla fine è una carta così. È nata esclusivamente per fare da materiale fusione, per creare poi limite. Limite, a proposito, mentre apri, è nel contesto sbagliato limite, perché poi lui va a collocarsi nel torneo di Pegasus e quindi nella precedente stagione. L'unico fatto che possiamo giustificare la sua presenza è che stiamo inseguendo continuamente i set giapponesi già usciti nel 2000-2001. Di conseguenza Upper Deck va a fare un agglomerato di carte e mi ritrova anche lì. E abbiamo trovato. Vedo che hai trovato non Ginz, ma Ordine Imperiale. Allora, io ripeto che comunque la Secret non era garantita e noi sul 4 box abbiamo trovato 4 Secret. Quindi assolutamente, comunque Ordine Imperiale, a parte che adesso è stata bandita, quindi non vale più niente, effettivamente che ha del potenziale, perché sbandita questa torna a salire di prezzo, perché quella da LCYW, che è quella della collezione leggendaria Joy, stava sui 35-40€. Adesso questa dovrebbe stare sui 5-6€, però comunque rimane una carta sia con del potenziale che veramente bella. Che non so se ci fai caso, ma tutti gli artwork con dei personaggi hanno elementi sul volto molto generici e molto abbozzati. A parte un paio di carte tipo questa, ma secondo me rimane comunque molto abbozzato. Sì, bello che tantissime carte poi comprendono i soliti 4-5 personaggi, tipo questo Ordine Imperiale, il Re che sta come protagonista, lo troviamo, penso, almeno 20 altre carte con all'interno, appunto, nell'artwork lo stesso personaggio. Questa cosa si ripete anche per un mostro di tipo guerriero, se non sbaglio, soprattutto in LOD viene ripetuto una decina di volte. È una cosa curiosa che uno se si conferma un attimo sugli artwork poi lo scopre anche da sé. No, ma è come anche Giudizio Solenne. Giudizio Solenne, tutte le carte con il nome Giudizio, no, o Solenne, non ricordo cosa è, quale delle due, riprende sempre lo stesso personaggio e poi ci creano una lore nel corso degli anni. Ed è figo perché le categorizza tutte nello stesso ambiente. esatto. Creava un bordiere qui, tanti mostri con effetto ma soprattutto anche tanti mostri normali come potrai vedere tu stesso andando a sfogliare le carte hanno con il sovrano del servitore del faraone eccolo qui. L'abbiamo usato la short print. Eccolo qui, la prima super short print. la prima common short print. Prima dello sboosting, sì, però questa era super short print. Ah, ok. Stavo dicendo, SDF torna a introdurre un po' di mostri di tipo normale e non solo con effetto proprio perché con PMT e SDM era stata un po' accantonata questa cosa qui quindi andiamo a rimpolpare. Ovviamente l'80% dei mostri introdotti sono 4 stelle perché ormai lo vedremo poi con l'abirinto dell'Incubo con Elfi Gemelli e il suo 1.9 di attacco. Ormai si punta praticamente solo a mostri che abbiano valori rilevanti di valori attacco e difesa non potendo godere di alcun effetto. Ma guarda, diciamo che con questo set si inizia a dare luce a quello che può essere il competitivo perché iniziano ad esserci quelle carte che poi verranno riprese anche più avanti. Adesso è un abbozzo primordiale di quello che potrebbe essere GOT ma in Yoke escono altre carte poi in set che ovviamente non abbiamo tipo PGD e questi qua compaiono le metamorfosi quindi ovviamente verrà ripreso il limite e tutte le altre fusioni che effettivamente abbiamo visto fino adesso. Sì esatto a proposito di GOT in questo set ci sarà la carta sigillo del tempo se non sbaglio che praticamente impedisce all'avversario di pescare nel prossimo turno è praticamente un anticipo di quello che sarà l'effetto di Yata con Legacy of Darkness e il suo famigerato Yata Lock insomma. Che effettivamente attualmente noi abbiamo sbandito sia Yata Grasu che il Chad il problema è che hanno tutte e due l'effetto cambiato quindi sono totalmente inutilizzabili e la lock non può essere fatta. Cioè secondo me questa idea della Konami di cambiare l'effetto delle carte per poi sbandirle è un po' una boiata perché a questo punto fammi un'altra carta depotenziata però che effettivamente fa la stessa cosa. C'è poco senso modificare gli effetti delle carte solo per renderle giocabili e farle giocare ai giocatori perché esempio anche un sincro a caso Brionac Brionac era forte adesso se non ricordo male gli hanno modificato l'effetto ed è ingiocabile comunque sigillo del tempo abbiamo trovato che è stato sbandito se non ricordo neanche un anno fa non so non era conoscenza dovrei spavere un pochino le ban list per andare poi a fare anche qualche curiosità sulle carte del passato perché tante poi riguardano appunto carte di questi set mura specchio abbiamo trovato mura specchio prima super carta così un po' interessante più alto che bella secondo me a livello di atto non l'ho mai vista giocata da nessuna parte forse no volevo leggere l'effetto di mezzo all'attacco di mostri attaccanti del tuo avversario una volta per turno durante la semi phase paga 2000 life pozzo distruggi questa carta diciamo il costo un po' un po' eccessivo costo è alto però lo puoi utilizzare durante il turno dell'avversario e poi non pagare se hai concesso fare una cosa del genere ovviamente quindi sfrutti lo aspetto una volta sola e poi teni liberi eh sì diciamo che paga o distruggi quindi puoi anche non pagare e far distruggere la carta lo sfrutto lo sfrutto il primo attacco e poi teni liberi considerando l'epoca in cui uscito questo set diciamo avevamo trappole più forti perché avevamo rifless a tre avevamo giudizio a tre sicuramente sicuramente questa era più economica e accessibile a tutti sicuramente attacco ricevi guerriero ondata gelida questa si è giocata anche in edison fortissima questa carta può essere attivata solo all'inizio della main phase 1 fino al tuo prossimo turno né tu nel tuo avversario potete attivare o posizionare carte magie o trappola quindi praticamente è un imperial order e decretoriali messi insieme limitati a un turno però sì è molto forte abbiamo drago di fuoco bifronte altro mosto normale 6 stelle mister vulcano 5 stelle normale ufficiale goblin trappola appropriata e gradius non la lord di gradius però questi mostri macchina dello stesso tipo della stessa lord comunque ricompaiono anche nei set successivi sì 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 gradius verrà ripreso più volte però anche delle carte magia union di equipaggiamento interessanti però mostro che non prenderà mai piede in un contesto tuo personale purtroppo allora abbiamo ombra degli occhi tischio marino raffica di vento questa è no non voglio fare una battuta sui problemi che state in Italia ultimamente indossatrice d'ali abbiamo previsto abbiamo previsto tutto bambino vampiro e orco d'acciaio sì diciamo che macchina se non sbaglio qui pochino ce ne sono insomma è una tipologia di mostro che va che viene un attimo riconsiderata guarda domanda importante quando eravamo almeno da me eravamo bambini pensavamo che quando dietro c'era il pallino verde c'era la foil no e quando c'era verde non c'era foil quando c'era rosso c'era la foil ma effettivamente cosa significa niente assolutamente niente no assolutamente nulla anzi che io sappia se parliamo di carte originali del 2004 dovrebbero essere tutte identiche le bustine ovviamente figurati se avrebbero permesso il riconoscimento di carte foil sarebbe fallita sdf praticamente e poi fossero pesabili un tempo purtroppo lo è alcuni con l'appoggio di qualche edicola ne hanno approfittato soprattutto magari più che altro i negozi grossi adesso un bilanzino di precisioni era facilissimo individuare le carte con le carte foil infatti io non ho fatto un video dove spacchetto col bilancino assolutamente ragazzi non fate queste cose nelle edicole allora poi abbiamo scarabeo l'intervento del dna abbiamo trovato pure prima molto bellina questa giocava a bruchido insieme a barriera di antinsetti un'altra ondata un'altra ondata la giara della mutazione 2 anche questa fortissima e poi abbiamo kamakiri volante allora effettivamente ci sono rimaste due ultra e un paio di super speriamo di trovarle che non sei la prima box pallato che apriamo comunque io sono sicuro da bambino di averlo aperto questo set perché ci sono alcune carte tipo questa che so di averla trovata probabilmente lob è l'unico set di quelli vintage che non ho effettivamente mai aperto questa ottima perché si gioca in gotto te invece sei sicuro di aver aperto mai queste robe ma guarda io mi ricordo io ho comprato il predattore delle tombe bellissimo artwork stupendo io da piccolo e tanto si ho aperto forse una bustina di PMT Unlimited dove trovai un testo vocato e rimasi contentissimo ovviamente e beh poi apri una CRB mi pare e trovai un BES super ma non ho aperto tanto io non avevo tutta questa disponibilità di andare nelle edicole e comprarmi 4-5 euro di pacchetto quindi la mia prima fase collezionistica è stata molto così rilegata a scambi a amici eccetera poi nel 2016-17 con tutta la disponibilità di internet Paypal Ebay eccetera lì ho riniziato anche la possibilità di spostarmi con la macchina perché andavo a prendere le collezioni in giro per l'Italia poi ho cominciato a ricollezionare pesantemente alcuni pacchetti li ho anche ritrovati alcuni li ho aperti alcuni no è stato bello bellissimo ma purtroppo poi se non mandi a gradare le carte appena scostate secondo me non fai la cosa giusta ecco tutto lì ma guarda ti dico io nel corso degli anni penso che a parte sì una fase iniziale dove me ne comprava mi nonna e ammetto che ultimamente mi era comprato un paio per Natale ho detto guarda visto che me ne compri un paio ho trovato un paio di ultra quindi sono tutto contento effettivamente non neanche io credo aver mai sbustato c'è stato un periodo in cui ci sono andato giù pesante poi mi sono tranquillizzato e adesso è andato tutto in vacca come hai detto te effettivamente quando hai una stabilità economica il problema diventa enorme allora abbiamo criceto bubonico questo porta la peste poi vento corazzato anche qui ovviamente tutti i sfondi stocconi effettivamente penso robe del genere dai 7 GX non appaiono più penso che lo sfondo sia in tutto disegnato sì c'è un'evoluzione così come considera che sono passati già degli anni in oriente quindi noi le abbiamo concentrate in un paio d'anni loro magari in 4 o 5 quindi sicuramente c'è anche un'evoluzione sia dal punto di vista così di anche tecnologica che anche così di gusti e soprattutto riferendosi sempre a quello che è il punto di riferimento che è l'anime e il manga poi non so tema a me la versione dei pacchetti vintage piace più di quelle attuali nel senso danno spazio a quello che è il protagonista della serie oltre all'immagine mentre adesso si dà spazio solo al mostro ok che attualmente non c'è una serie rapportabile però sarebbe una cosa cioè è una cosa che mi sarebbe piaciuta vedere anche nelle serie GX e andando avanti almeno per capire a cosa era contestualizzato sì ma perché perché da noi mi sembra che non arrivi neanche l'anime tradotto quindi l'unico riferimento che si ha per quanto riguarda il gioco sono principalmente i mostri quindi come se una volta il marketing e tutto quanto era incentrato sul cartone animato oggi invece si rifà esclusivamente ai conoscitori del gioco e ai mostri che ne vengono insomma allora abbiamo terra infuocata questo è praticamente il pieno da terra se non smettiamo di inquiare poi lancia incantatrice girokin la tarta isola questa è molto bellina bella e la short print anche questa se non sbaglio una short print delle 12 che trovevamo all'interno del box e se ce l'hai scritto dimmi quali sono le altre ma ti dico le super short print l'ho detto prima limite desideri solenni risoldato di riserva super poi abbiamo guaritore divino grande tumulto come super short print le 12 short print sinceramente non le ho scritte perché erano montane allora andiamo col prossimo andiamo clicca 3 abbiamo regolazione della tribù guerrero degli abissi insetto trapano questo molto bello sbustato da psv vecchio la barriera di cui parlavamo prima carro armato dono dell'elfo mistico ovviamente per risparmiare prendono gli stessi artwork legame questo è il terzo che troviamo e orco d'acciaio 2 una ultra ancora speriamo che si appaccino presto sì perché qui abbiamo anche richiamo del posseduto sepoltura prematura delle staple fortissime anche anche richiamo del posseduto anche richiamo del posseduto è fuori contesto perché viene usato da un antagonista di gioia all'interno del regno dei due lanti qui siamo più che altro nella città di domino quindi è un altro accorpo fatto così alla di fretta in furia e no più che altro il logo vecchio della konami quello quadrato fino a quando rimane penso che già nel 2003 con ldd italiana voglio fammi vedere un attimino le bustine originali mie intanto gilford gilford questa è molto bella altro mostro principale di gioia il fatto è che gioia principalmente antagonista principale scusa il gioco di parole delle prime puntate della città di domino già ldd prima edizione italiana aveva già il logo cambiato se riesci a vederlo si si riesce quindi secondo me dura solamente un anno quell'anno in america per le first LOB e poi viene cambiato successivamente è perché io ricordo in america di averli visti col vecchio logo comunque effettivamente il logo che abbiamo noi è differente da quello che c'è attualmente cioè se tu si poi cambia cambia ancora cambia ancora si fa un'evoluzione l'altro in vent'anni cosa vuoi pretendere anche la strategia di marketing di rinnovo ovviamente no sennò rischiavi veramente di scomparire considerando i competitor che hai attualmente nel mercato cioè i giochi di carte non ci sei solo te ma comunque vorrei ricordare alle persone che vogliono effettivamente sbustare questo prodotto che la Konami ha annunciato che questa sarà l'ultima reprint dei box vintage e quindi se volete recuperare Darkrisis no Darkrisis no servito del farone o questi altri set vi conviene farlo adesso prima che il prodotto si esaurisca e salga nuovamente di prezzo non sperate poi in una possibile ristampa perché non avverrà graffica di vento perché oh in senso questa è anche la quarta reprint non posso aggiungere per fortuna perché basta cioè hanno fatto questa per il venticinquesimo può essere apprezzabile non apprezzabile contestabile non contestabile però effettivamente Konami ha un po' stufato con tutte queste reprinte perché poi secondo me va anche a sminuire quello che è il tuo motto di carte collezionabili però a questo punto di collezione chiedo quanto resti poi no tutte queste reprinte sono carte che non intaccheranno mai le prime edizioni per l'amor del Dio però vederne continuamente stare lì ogni volta a capire se sono le 2020 2010 2003 2002 è un po' una rottura di scato no sono d'accordo a parte che queste hanno proprio la dicitura differente queste sono riconoscibili rispetto a tutte le altre veramente ci sono delle reprint passate che fatichi veramente tanto soprattutto quelle americane diciamo che mi hanno rovinato per quanto riguarda le carte indonesi mi hanno rovinato la ricerca delle mie IN variant che erano delle carte stampate solamente nella Legendary Collection 1 scusami nella Forbidden Legacy 1 e nella Master Collection 1 io sto collezionando e sto cercando di avere i set completi purtroppo avendo lo stesso codice ovvero la IN attaccata al nome dell'espansione questo mio uniforme a tutte quante le ricerche testuali che faccio ogni volta devo stare lì a capire se sono del 2020 o del 2004 o del 2005 che merda è abbastanza ancora un po' di pazienza adesso rimancono circa 70 carte per avere i set completi ed è una cosa che attualmente non c'è nessuno di quelle carte lì sarebbe un bel primato nessuno è mai riuscito a completare quei set questi set di Ian Variant attualmente no stiamo battendo io e un americano a lui mi mancano forse una ventina di carte a me è un po' di più però è solo una questione di tanta pazienza e tanta ricerca e un po' di fortuna anche nel scovare costano tanto o sono a prezzi accessibili chi se ne intende giustamente le prezza per quello che valgono e per me valgono veramente tanto siamo sull'ordine del 5x rispetto a un'altra unlimited dello stesso anno e poi se chi è disposto a spenderli questi soldi chi no io personalmente valuto ogni comune un euro e parliamo di unlimited e ogni rara la valuto circa 3 euro poi le folle se ne puoi discutere però essendo che me ne mancano veramente pochissime circa 6-7 sono disposto a spendere anche qualcosa in più pur di completarlo in fretta no no nel senso considerando che non è roba che trovi tranquillamente sul market dovrebbe infatti lì mi rimetto sempre alla capacità delle persone di listare le carte correttamente perché in quel modo riesci a mettere il prodotto giusto nel luogo giusto e trovare l'acquietto interessato ovvero il sottoscritto in poche parole ma guarda potresti essere l'unico in italia che le c'è allora siamo senza ultra e ci mancano due pacchetti vabbè allora potrebbero essere entrambe di dentro dai mamma mia su due pacchetti me ne aspetto una almeno una sarebbe la prima volta che ne troviamo solo una o nessuna nessuna è la prima volta una sì perché forse è l'ultimo set che abbiamo aperto allora soldato di fuoco uno e due abbiamo trovato dono dell'elfo mistico proibizione ho carta fortissima soprattutto per il formato edison ed è la prima volta che ne troviamo una porca troia che peccato dai andiamo con l'ultimo ci credo poco che sia qua dentro comunque dai te l'ho gufata almeno mamma mia va bene la nostra previsione di carte che facciamo all'inizio questa volta ha fallato amare allora insetto trapano desideri solenni campione della fiamma l'occhio della verità cucinella nobiluomo nello stermino altra carta molto forte per il formato qua ci dovrebbe essere la foil perché c'è una carta ci sono due carte dietro quindi una leviamola che è soppressione del mondo e qua abbiamo sepoltura peccatura dai almeno questa almeno questa bella guest apple carina è una carta che sicuramente è al suo mercato peccato che non era non è tra le mie preferite come limite o pescatore anche dai bella questa almeno abbiamo salvato abbiamo salvato il box si no diciamo almeno una ultra me la doveva dare l'unica cosa è che anche questa come il mago nero l'avevo già trovata quindi è un po' una merda però nel pratico poteva essere una ultra molto peggio alla fine è una carta che si può giocare nei retro format io nel caso una me la vendo una me la gioco anche ah combattente delle lame anche adesso mi era passato sotto gli occhi bellissima carta bellissimo artwork però combattente delle lame no con una carta ultra rara molto bella secondo me però purtroppo non l'abbiamo trovata sarà per il prossimo box eh sì ragazzi ce n'è un altro da aprire però questo no aspetta perché lo aprivo stasera quindi è inutile dirlo il video uscirà tipo tra un mese e va bene anche con questo box diciamo è andata relativamente bene poi l'ero gli abbia fatto piacere scoprire tutte queste chicche in merito a una delle espansioni secondo me più belle del gioco l'unico problema è che le carte belle del gioco non le abbiamo trovate detto questo ragazzi vi rimando a settimana prossima che apriremo l'ultimo set che è gli occhi invasione del caos dove all'interno potremo trovare carte incredibili va bene ragazzi detto questo noi ci vediamo domani con un nuovo video e settimana prossima con l'ultimo episodio ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti